Ciao a tutti, nuova puntata dei dischi trash. In realtà questa qua doveva essere un reading trash. Il problema è che il testo di questo singolo è talmente hard che mi vergognavo a morte e quindi non l'ho fatto alla fine. E quindi farò un dischi trash per farvi conoscere la questione. E il link, come al solito, è nell'info box. Yeah! Il brano in questione... Aiuto ragazzi! Tocca toccami di Susie Blady. Allora, Susie Blady, che è lo pseudonimo di Maurizia Giusti, è una conduttrice abbastanza famosa. Visto il target della gente che mi segue, l'età media di coloro che mi seguono, non so quanti di voi la conoscano. Però io la conosco perché gli anni 90 significavano, o primi 2000 anche, significavano turisti per caso. Ovvero quella trasmissione in cui lei con l'altro tizio, come si chiama, quello lì carinissimo che fa anche mela verde, andavano in giro, no? E quindi lei, appena la vedevi in tv, qualsiasi cosa che facesse, perché ha fatto anche altro, qualsiasi cosa che facesse, la tua mente ti riportava a turisti per caso. Era lei, cioè... Basta! E io penso che, per quanto sia una signora che esprime subito dolcezza e simpatia, io avete... cioè, proprio d'impatto per come si è mostrata nel corso della sua carriera, la realizzazione di un singolo intitolato Tocca Toccami, palesemente puttan pop, con un testo molto ardito, cioè, in confronto a Britney Spears e a una suora, mi ha sconvolto l'esistenza, cioè è stato come l'infanzia che si distrugge. Io mi metto nei panni di tutte quelle povere ragazzine, fan di Miley Cyrus, dell'epoca di Anna Montana, che cosa... la stessa cosa che hanno pensato quando lei è impazzita, si è messa a fare twerking con Weekend Stop, dove inizia a propagandare l'uso di marijuana e di crack, no? È la stessa cosa che ho provato io con la povera Susie Blady, perché non so a cosa è successo. A me sembra di aver capito che lei e l'altro tizio di Turisti per caso sono disgraziatamente lasciati. E lei ha avuto una liberazione sessuale con questa canzone, ma finché si parla di sesso va benissimo. Il problema è che uno, musicalmente, è qualcosa che dici. E secondo... ma come ti è venuto in mente? Cioè, già il ritornello, veramente, cioè, voi immaginatevi anche la stessa canzone con la stessa base in bocca anche a Rihanna, che dice le stesse cose, cioè... È proprio ridicolo, è una cosa che non sta né in cielo né in terra, e Rihanna potrebbe permetterselo. L'ha già fatto con altre canzoni di parlare di queste cose, però è proprio la canzone in sé il problema. Se poi la fai cantare, ah, Susie Blady, cioè... ma come... ma perché? Cioè, ha proprio distrutto l'immagine di tenerezza che propagandava, no? Propagandare. Questa parola che sta tornando così in auge in questo video, che forse è anche un neologismo, chissà. Il fatto sta che il ritornello è tipo Tocca, 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 toccami, voglio essere porca! Cioè, vi rendete conto? Io sto male. Io non riesco ad accettare una cosa del genere. Vi lascio il link nell'info box e basta, e la chiudiamo qui. Un bacione e alla prossima. Ciao, ciao! Ciao, ciao!